Dopo Milano e Roma si ferma anche a Napoli, prima tappa nel sud del paese, il progetto Diversità Lavoro. L'obiettivo è l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli o a rischio di esclusione. Si rivolge infatti a persone con disabilità, stranieri, appartenenti alle categorie protette e transgender, che il 28 febbraio avranno l'opportunità di incontrare le aziende disposte ad offrire un'occupazione e di partecipare alle attività di orientamento. L'evento si svolgerà dalle 10 alle 16 nel complesso di Monte Sant'Angelo dell'Università Federico II ed è realizzato con Lunar ed il centro di Ateneo Sinapsi. Con Diversità Lavoro il concetto di fondo è che il talento e il merito devono emergere in azienda nonostante le difficoltà, nonostante la disabilità, nonostante le barriere che vengono dall'essere di origine straniera oppure persone transgender. Dal 2007 Diversità Lavoro ha aiutato circa 300 persone a trovare un impiego. la presentazione del progetto con l'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli è stata anche l'occasione per fare il punto sul fenomeno della discriminazione nei contesti di lavoro in Italia. L'emersione delle denunce e delle segnalazioni che ci pervengono dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 e sono del 35,5% in aumento rispetto all'anno precedente del 15%. Le categorie più penalizzate sono intanto persone di origine straniera, le persone disabili e una nuova categoria che stiamo affrontando che sono i transgender. Accogliamo con grande favore questo progetto, daremo ovviamente tutto il supporto che l'istituzione può dare insieme alle altre istituzioni impegnate proprio perché riteniamo assolutamente positivo il connubio con il lavoro.